ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con un video tutorial in collaborazione con youpla craft questa volta ho pensato di creare un mini album tutto farfalloso ho utilizzato come base e la nuova linea geometrica di youpla craft decorandola con delle polveri da embossing che guardiamo bene è una base color menta con delle pepite dorate a me piace molto l'ho utilizzata appunto per decorare questa base ho poi inserito qualche maxi parolina sempre della nuova linea youpla le foglioline doodle e poi questa farfalla si apre e all'interno nasconde un mini album io ci ho messo le foto del cuore se vi piace andate a vedere subito il video tutorial così potete anche voi creare il vostro mini album farfalloso e a me non resta altro che darvi appuntamento al prossimo video tutorial e augurarvi buona creatività ciao 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 ciao